Sì, sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Settebello, il Rimini compie l'ennesima imprese stagione e segue Settebello sul difficile campo della Sol Giovannese, uscendo per la settima volta imbattuto nei sette precedenti storici. Il solo Ambrosini è out per i ghetti, assenza che non si sente perché Rimini riscatta la sconfitta di misura dell'andata, legittimando in ugual maniera la propria vittoria in esterna. Kernezzo, in fase di avvio, scodella per la testa di Di Santo, ma Scotti ci mette la cosiddetta pezza. San Giovannese, nuovamente avanti, un costottio dalla distanza di Scoscini che si perde sul fondo. L'inizio prosegue con i colori appartenenti ai padroni di casa. Yuki, c'è attore dei gode tre punti all'andata, appoggia per Conco, che spara a botta sicura con Scotti che le spinge ottimamente di piede. Guiebre sulla fassa, appare in giornata, traversone dalla destra per l'incornata di Boraventura, ma Scarpelli blocca senza affanni. L'inizio è pimpante, le squadre si sfidano a viso aperto, traversone per la girata di Petti che mette alto. I Rimini pareggia il conto dell'occasione con questo lancio a cercare Boraventura. Bello lo stop, meno la conclusione che si perde sull'esterno della rete. Dalla parte opposta, questa volta, Di Santo cica l'appuntamento con i gol, supando una favorevole occasione, invece in chiusione di tempo, I Rimini va vicinissimo al bersaglio, cross per la testa di Arlotti che alza la mira di pochissimo. Dopo 21 minuti di gioco, nella ripresa il primo squilla arriva dalla San Giovannese, traversone a cercare lunghi, mascotti ancora una volta, superlativo. Al minuto 26 della ripresa scatta la rivincita. Dal corner, come l'andata è questa volta a Boraventura a trovare lo stacco vincente di testa per i gol partita, festeggiando con 24 ore di anticipo il proprio compreanno in programma nella giornata di lunedì. E che compreanno, aggiungiamo noi, Rimini che continua a trionfare, Medicina che non guasta la festa neppure ai tifosi della San Giovannese che continuano a sventolare le proprie bandiere.